Musica Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Grazie 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 Ma dov'è? Maledizione La Addosso Dannato Lo stiamo guardando Eccolo Prendiamolo Ma dov'è? Lo sai solo fratello Non ci sfuggirai! Prima un leggero soppocamento Poi sconticamento di mutilazioni A partire dai tuoi attributi Avanti! Andasso! Poi sconticamento di mutilazioni 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 Sponticamento di mutilazioni Eccolo! Lì! Lì! Più veloce! Eccolo! Lì! Lì! Eccolo! 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 Grazie. 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 Grazie.